Musica Oggi ho preparato i raglioli cinesi al vapore ripieni di carne tritata con carote, porro e birza è un piatto un po' elaborato da preparare perché contiene molti passaggi al suo interno ma dà molte soddisfazioni perché riuscite a prepararlo interamente con il vostro Messier Cuisine Connect o come sempre vi ricordo con il vostro Messier Cuisine Plus adesso andiamo a vedere la ricetta nel dettaglio e tutto il procedimento per intero gli ingredienti per i nostri ravioli cinesi al vapore sono 200 g di farina 0 e 100 ml di acqua per preparare la pasta dei ravioli Poi per la cottura ci sarà un letto fatto di 150 g di foglie esterne di verza e per il ripieno invece abbiamo 100 g di foglie interne di verza, una carota e 50 g di porro un cucchiaino di salsa di soia, 250 g di carne, dell'olio, il sale e poi per la cottura a vapore un litro e mezzo di acqua la prima cosa che facciamo è andare a preparare la pasta per i ravioli perché poi dovrà riposare 30 minuti a temperatura ambiente mettiamo nel boccale la farina e l'acqua e andiamo ad impastare per 30 secondi a velocità 6 Mettiamo il nostro impasto che sarà abbastanza poco aggregato in una ciotola dopodiché lo andiamo a compattare con le mani e lo lasciamo riposare poi a temperatura ambiente come vi ho detto per circa mezz'ora nel frattempo laviamo il boccale e andiamo a preparare il ripieno quindi dopo aver lavato il boccale andiamo a mettere 100 g di verza mettiamo la nostra carota con il porro e andiamo a tritare tutto per 20 secondi a velocità 5 a questo punto uniamo la carne uniamo un cucchiaino di salsa di soia poi uniamo mezzo cucchiaio di olio uniamo il sale e mescoliamo per 10 secondi a velocità 3 mettiamo il nostro composto in una ciotola e procediamo con la stesura della pasta per i nostri ravioli ecco la nostra pasta che ha effettuato il suo riposo adesso andiamo a stenderla nella maniera più sottile possibile perché più saranno sottili più ovviamente saranno buoni la pasta è molto elastica quindi ci vuole molta energia se volete vi potete anche far aiutare da una macchina stendi pasta di quelle che si utilizzano per la pasta all'uovo in maniera tale da farla veramente molto molto sottile una volta stesa in maniera sottile la nostra pasta con un coppapasta o con una tazza andate a ritagliare dei cerchi in questa maniera così andrete poi a riempire adesso preparo tutti i cerchi dopodiché vi mostro la fase del riempimento ecco preparati i miei cerchi ne ho ottenuti circa 11 rimpastando anche i ritagli che erano avanzati e vedete una pasta è molto elastica quindi piano piano va ritirandosi i cerchi vanno restringendosi un po' basta che li allarghiamo un po' con le mani oppure diamo un'altra ripassata di mattarello prima di farcirli cominciamo quindi a farcire il primo cerchio in questa maniera prendiamo circa un cucchiaio di pasta la mettiamo al centro del nostro disco giù un'altra pochina dopodiché prendiamo tutti i lembi li chiudiamo al sacchetto e diamo una girata è pronto il nostro primo raviolo li posizioniamo sul nostro piano dopodiché prepariamo tutto quanto per la cottura a vapore vado a preparare intanto tutti i pezzi vedete i nostri ravioli sono pronti adesso ho preparato il vassoio fondo della vapore vado a mettere nel vassoio delle foglie di verza quelle che avevamo precedentemente messo da parte lo vado a coprire con queste folle sono grandi quindi diciamo che per me va bene così mettiamo l'acqua nel boccale adagiamo i nostri ravioli sulle foglie di verza una volta che li abbiamo adagiati copriamo con il coperchio montiamo la vaporiera e andiamo a cuocere a vapore per circa 40 minuti la vaporiera è montata andiamo sui programmi automatici mettiamo cottura a vapore e alziamo il tempo a 40 minuti ci vediamo tra 40 minuti per vedere il risultato ecco pronti i nostri ravioli cinesi li ho impiattati ancora con la verza potete condirli con la salsa di soia se vi piace o con della salsa agrodolce come preferite spero che questa ricetta vi sia piaciuta vi invito come sempre a seguirmi sul mio sito www.messierecette.it vi invito ad iscrivervi al nostro gruppo facebook Messier Cusing Connect Plus Italia e vi invito se il video vi è piaciuto ad iscrivervi al mio canale in cucina con Messier buona cucina a tutti voi e vi invito ad iscrivervi al nostro canale in cucina con Messier